Eseguita in Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, un'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di 68 soggetti facenti parte di una ramificata organizzazione criminale di stampo dranghetistico dai marcati profili internazionali capaci di pianificare l'importazione di 8 tonnellate di cocaina dalla Colombia. I provvedimenti restrittivi rappresentano l'epilogo delle investigazioni condotte dai militari del nucleo del Goa di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata Stammer. In tale ambito, già lo scorso 24 gennaio, su disposizione della direzione distrettuale antimafia, erano stati emessi 54 provvedimenti di fermo. Le indagini in particolare hanno consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa composta da diversi sodalizi criminali riconducibili all'Andrina e Fiare di San Gregorio di Ippona, all'Andrina Pititto Iannello di Mileto e al gruppo egemone sulla contigua San Calogero. Organizzazioni satellite rispetto alla più nota ed egemone cosca dei Mancuso di Limbadi, con la sostanziale partecipazione delle più note andrine della piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone. Clan Calabresi è assolutamente a loro agio nel contrattare direttamente con i cartelli sudamericani l'importazione di 8.000 kg di cocaina, partita questa che verrà sequestrata poi in Colombia, già stoccata e nascosta in una piantagione di banane. Nel corso dell'indagine è stato possibile ricostruire un progetto poi non realizzato di trasporto di ingenti quantitativi di cocaina a mezzo aereo, utilizzando come scalo d'arrivo l'aeroporto internazionale di La Mezzia Terme. Stammer ha consentito di dimostrare come i trafficanti calabresi ricevevano disponibilità liquide anche da soggetti insospettabili, incensurati, personaggi celati dietro una facciata di illecità. Spesso legata però ad attività commerciali che vanno dalla ristorazione alla struttura ricettiva turistica alberghiera, alla concessionaria di automobili, caseifici, parre e tabacchi, con partecipazioni anche in cantieri navali. Il denaro destinato ai cartelli veniva consegnato dai calabresi direttamente ai cittadini colombiani e libanesi da anni residenti in Italia, ai quali veniva affidato il recapito in Sud America. L'inchiesta ha così consentito di identificare tutti i soggetti coinvolti. L'intera operazione ha permesso di infliggere all'organizzazione i rilevanti perdite economiche, sia sotto il profilo dei capitali investiti che dei mancati guadagni.